Magnetofono, Telecamere, Penna, Emiliano Giancristofaro tra Ambiente e Cultura, l'Associazione Scuola Cultura ed Arte Fulvio Luciani, la Fondazione Pescara Abruzzo, con il patrocino di Italia Nostra, Deputazione di Storia, Patria e della rivista abruzzese, hanno così reso merito con un convegno allo studioso abruzzese delle tradizioni e delle culture popolari tra i più rilevanti del secondo novecento italiano. Sono stati delineati gli aspetti fondamentali di una figura sfaccettata, passando per la sua capacità di fare comunicazione come giornalista e ancora scrittore, studioso, documentarista e ancora la rivista abruzzese che ha diretto dal 1961 al 2022 la casa editrice Rocco Carabba, rifondata con Mimi Barbati, l'ambientalismo. Gian Cristoforo è stato tra i fondatori di Italia Nostra in Abruzzo, tra i protagonisti dei movimenti contro l'insediamento dell'industria petrolchimica in Val di Sangro e per la salvaguardia dell'abbazia di San Giovanni in Venere, nel pieno della costa dei Trabocchi. E poi docente allo scientifico di Lanciano soprattutto, amatissimo dagli studenti. Ha collaborato con la RAI e con emittenti televisive private, realizzando trasmissioni di grande successo sulle tradizioni popolari abruzzesi, indimenticabili le storie del silenzio. Sono intervenuti Eide Spedicato Iengo e ancora Maria Rosaria Lamorgia, Antonio Bini, Domenico Valente, Giovanni Damiani. Ha concluso Nicola Mattoscio della Fondazione Pescara Abruzzo, che ha proposto iniziative preziose, innanzitutto una borsa di studio per promuovere una figura esemplare nei giovani. Grazie a tutti.